Ciao a tutti, il tema della felicità in amore è sempre un tema interessante, sempre un tema interessante perché paradossalmente l'amore che, o la relazione sentimentale fondamentalmente, che dovrebbe essere quell'area della nostra vita in cui noi viviamo, quando viviamo una relazione, diciamo, un momento di felicità o comunque dovrebbe essere quella parte, diciamo, gratificante della nostra vita, quello che dà un valore aggiunto fondamentalmente alla nostra vita, spesso invece si rivela una delusione, si rivela un fallimento. E allora come evitare, diciamo, il fallimento in amore e come riuscire a sviluppare invece è la capacità di vivere bene le relazioni sentimentali, viverle bene per quello che possono dare, ovviamente, perché il presupposto per vivere bene una relazione sentimentale è quello di stare bene comunque con noi stessi. Se non riusciamo ad imparare questo, saluto Laura e a tutti gli altri, se non impariamo a stare bene con noi stessi, quello che si dice abbastanza spesso, se non sai stare bene da solo, non riuscirai a stare bene neanche in coppia. E in effetti un fondo di verità in questo c'è, anche se spesso poi non viene detto come fare a stare bene con se stessi. E allora dobbiamo tenere presente questo. Tanto il presupposto di fondo è che dentro di noi abbiamo delle enormi risorse, molte più risorse di quelle che crediamo di avere, saluto anche Marzia, risorse a livello di forza interiore, risorse a livello di energia vitale fondamentalmente, di motivazione e anche, anche un saluto anche a Maria, e anche energie, diciamo, proprio energie di biliche, energie sessuali, energie sensoriali, che non sono energie da sottovalutare. Ciao Marina! Non sono energie da sottovalutare, perché spesso quando incrociamo una persona ci basiamo, ad esempio, nel giudicare, da un punto di vista cognitivo, poi sull'aspetto estetico, sull'aspetto esteriore. In realtà c'è qualcosa che trascende l'aspetto esteriore, è la sensualità, quello, ciao Mary, la sensualità è quello che una persona riesce a darci in più rispetto all'aspetto estetico, mentre l'aspetto estetico è un valore culturale, e saluto anche Marcella e tutti gli altri che si sono collegati, l'aspetto estetico è di fatto un valore culturale, ma la sensualità invece è energia, e se noi riusciamo a sbloccare la nostra sensualità, la nostra energia interiore, questo è il primo passo per poter naturalmente trascinare e coinvolgere le altre persone, perché se invece abbiamo l'energia bloccata, diciamo che gli esoteristi o i tantrici dicono se hai il chakra del cuore bloccato, dove non scorre energia, non c'è niente da fare, tu potrai, come dire, desiderare quello che vuoi, ma è come qualcosa di tappato, che non si riesce ad aprire, e non riuscirai a travolgere attraverso la sensualità, la sensorialità, l'erotismo, le persone che ti circondano e che ti interessano. Quindi agire su se stessi significa sbloccare anche queste risorse, non soltanto risorse di tipo cognitivo, anzi, le risorse di tipo cognitivo sono l'ultima cosa che serve per vivere bene la relazione sentimentale. Per vivere bene le relazioni sentimentali, ecco Laura, ora viene la domanda, adesso come si sblocca, per vivere bene le relazioni sentimentali dobbiamo essere prima sbloccate in livello energetico, soprattutto a livello di sessualità, di affettività e proprio di energia libidica, perché è ovvio che il sesso si può fare, ma non vuol dire che farlo, si può fare anche con basso livello di energia fondamentalmente, diventa un atto fondamentalmente meccanico, mentre quel qui di in più di energia potremmo dire di vita, perché poi la sessualità è energia di vita, la gioia di vivere, la gioia di, diciamo, essere partecipi dell'universo, potremmo dare questa definizione, è quella che veramente trascina le altre persone e va a mobilitare altre energie, come un po' la teoria matematica dei frattali, si va a creare, diciamo, un'interdipendenza positiva con tutto ciò che ci circonda. Quindi noi dobbiamo andare a lavorare anche qua, per fortuna o purtroppo su noi stessi, se vogliamo in qualche modo coinvolgere, se vogliamo in qualche modo far innamorare in modo profondo le persone che ci interessano. E quando parlo di far innamorare non parlo di creare illusioni d'amore, perché magari inizialmente è anche necessario creare un'illusione d'amore. Creare un'illusione d'amore vuol dire amplificare il trubamento della persona, amplificare, che ne so, se una la disistima, la fa sentire una merda e le fai vivere un'illusione, perché le dai lo stesso cibo, diciamo, che le persone significative della sua vita, a suo tempo, le hanno date. Quindi, come dire, le dai lo stesso becchime che è sempre stata abituata a mangiare. Però, di fatto, crea un'illusione. Non vai a creare l'amore. L'amore, invece, è energia positiva. Quindi, energia vitale positiva. Energia che, a livello sensoriale, ti procura una sensazione di piacere. Questo dovrebbe essere l'amore. Tutto il resto è qualcosa di diverso, è qualcosa che viene spesso confuso. È qualcosa che ti dà una sopravvivenza, diciamo così, ma non è sicuramente amore. Assolutamente. Si tratta di, potremmo dire, un miraggio, un'illusione ottica, un qualcosa di diverso. Ecco, quindi, che noi dovremmo imparare. E possiamo vivere l'amore soltanto se noi anche siamo realizzati a livello emotivo. Perché se non siamo realizzati a livello emotivo, non andremo ad agganciarci a persone che ci danno, che ci fanno vivere fondamentalmente situazioni di benessere. Cioè, non staremo bene. Avremo sempre qualcosa che ci rode dentro. Avremo sempre qualche insicurezza. Avremo sempre delle paure. E andremo ad agganciarci proprio su quelli che ci alimenteranno queste paure. Ma non stiamo vivendo una relazione d'amore. Stiamo semplicemente vivendo, potremmo dire, una relazione di dipendenza, oppure un'illusione d'amore, un miraggio, un'amplificazione emotiva. Potremmo vivere qualunque cosa, ma non dobbiamo chiamare l'amore fondamentalmente. Anche se la nostra percezione è quella dell'amore. Perché confondiamo le pene, il tormento, con l'amore. In realtà sono due cose che sono completamente diverse. Quindi sia per, verso gli altri, ma soprattutto anche verso noi stessi, dobbiamo sbloccare questi meccanismi. Ora, diceva qualcuno, forse Laura, mi sembra, come si fa a sbloccare questi meccanismi? Beh, i sistemi sono tanti. Fondamentalmente dobbiamo interagire con la nostra sfera emotiva. Questo è il punto, il dato di fatto. E abbiamo un vantaggio, però, perché la nostra sfera emotiva ha delle esigenze, anche lei. È un po' come un bambino. Un bambino piccolo che ha delle esigenze, che ha la forza, perché ha la forza, ma è alle volte anche un po' capriccioso come un bambino. Quindi dobbiamo conquistarla come si conquisterebbe un bambino molto piccolo, cioè offrendole qualcosa di cui è interessato. E' ovvio che inizialmente magari dovremmo dare una sorta di metadone emotivo. Dovremmo autosomministrarci, diciamo, delle tensioni emozionali che magari possono risultare anche un po' autopenalizzanti, perché non piacciono tanto alla nostra sfera logica. Però è il punto di partenza. È il punto di partenza per traghettarsi, diciamo... Ecco qua un saluto anche a Licia, che è un po' che non sento. Ciao Licia e anche Gianluca. Inizialmente dovremmo necessariamente somministrarci questo tipo di emozioni, ma farlo in modo deliberato, consapevole, è finalizzato semplicemente a creare un'alleanza. Un'alleanza con una nostra parte, che è la parte che, pur essendo nascosta, pur essendo subliminale, è quella parte che ci può far innamorare e ci può far disinnamorare, ad esempio nelle erozioni sentimentali. Per cui è fondamentale averla come alleata, perché altrimenti magari ci farà innamorare della persona sbagliata e non ci farà innamorare della persona giusta. Perché è ovvio che quando un bambino è incazzato con te, ti fai dispetto e così la nostra parte emotiva ragiona. Quindi inizialmente dovremmo appunto somministrarci emozioni che possono anche essere autopenalizzanti. E poi piano piano dovremmo andare a ricercare attraverso il nostro stile di vita. E qui nessun pranzo è gratis, non è che uno sta lì e gli casca la manna dal cielo. Devi iniziare ad avere uno stile di vita tale per cui piano piano riesci ad apprezzare un altro tipo di emozioni. E anche la forza, ad esempio, di sganciarsi da chi ti fa soffrire può essere un'emozione positiva, che ti dà benessere. Questo è da non sottovalutare, il coraggio di affrontare il proprio demone e di dominare il proprio demone è un'emozione molto forte che possiamo utilizzare per, diciamo, creare questa alleanza. Potremmo dire, usando un termine biblico, creare questa nuova ed eterna alleanza tra la sfera logica e la sfera emotiva. Questi concetti, poi per chi fosse interessato a venire venerdì a Torino, 4 novembre alle 20.45 all'Educatorio della Providenza, li tratterò perché riguardano come sedurre gli altri attraverso, diciamo, al di là della parola. Però bisogna passare da noi stessi. Se non passiamo da noi stessi, non riusciremo a sedurre nessuno. E quindi, diciamo, per un tema approfondito, poi l'appuntamento è venerdì a Torino, venerdì 4 novembre, 20.45, Educatorio della Providenza, Corsa 3013. Lascio sempre il mio riferimento, che è il 333 15 11 703, per prenotazioni, info, eccetera. Ma ritornando, perdonatemi lo spot, ritornando al discorso, non è facile sicuramente iniziare a fare questo, ma è un atto di coraggio che dobbiamo fare. Perché, se vogliamo vivere bene le relazioni sentimentali, dobbiamo avere coraggio. Cioè, l'amore richiede coraggio. Richiede anche il coraggio di rischiare, ovviamente. Come in tutte le cose, richiede anche il coraggio di rischiare. Se noi abbiamo il coraggio di rischiare, riusciremo sicuramente ad avere uno stile di vita più appagante. Uno stile di vita appagante è la condizione qua non per stare bene. Ma non è che lo stile di vita più appagante devo averlo necessariamente attraverso quella persona. Comunque devo crearmi dei presupposti di qualunque genere siano per essere veramente in armonia con tutto ciò che mi circonda. Non delegare a un'unica persona, attività, lavoro, qualunque cosa sia, la mia felicità o il mio approvvigionamento emotivo. Perché qui non si tratta neanche di felicità, si tratta semplicemente del fatto che abbia una sfera e quella emotiva che va alla ricerca di tensioni. Se non le dai tu, se le procura lei. Quindi inizia a dargli per prima cosa. E poi piano piano a modificare in modo tale da dare qualcosa che piaccia anche all'altra parte di te. Quella con cui ti identifichi e che soffre se le cose non vanno bene. Quindi questo è un concetto fondamentale. Non serve. Tutto il resto è inutile. Come diceva Battiati in una canzone. Non servono tranquille antioterapie. Ci vuole un'altra vita. E questo è il concetto di fondo. Perché altrimenti se non sai dove sbattere la testa poi lo vai a sbattere in farmacia. Ma se la sbatti in farmacia vai a conclamare quello che è soltanto una tua situazione fallimentare. Ovviamente se uno come dire entra in quel loop in quel giro va soltanto a conclamare. Va a prendere lato del fatto che non è riuscito e quindi si anestetizza. Però una volta che anestetizzi fai come diciamo quel negoziante che è per paura di continuare a subire delle rapine chiude la sercinesca e basta. Certo i lati non entreranno più. Non entreranno neanche i clienti però. Per cui questo è la cosa fondamentale. Prendere come dire la tigre e cavalcare la tigre. Dobbiamo cavalcarla e veramente non aver paura di cavalcarla. Poi certo che la natura della tigre potrà essere quella di aggredirci ma noi dobbiamo essere bravi per evitare questa aggressione ma utilizzare la forza e l'energia della tigre perché è il gigante che vive dentro di noi. Sono le risorse che abbiamo. Noi dobbiamo avere accesso alle risorse alle risorse interiori che una volta che apriamo questa cambusa diciamo così di risorse interiori niente e nessuno ci potrà più fare del male fondamentalmente. e neanche niente e nessuno potrà più fermarci perché entreremo in una sorta di loop positivo per cui potremo perdere tante battaglie ma alla fine vinceremo la guerra. E perché vinceremo la guerra? Perché la guerra la perde soltanto chi si arrende e si arrende quando uno si arrende all'ultima battaglia e invece se entriamo in un meccanismo diverso l'utilizzo delle risorse interiori ci permetterà di essere felici sentimentalmente ci permetterà di essere veramente felice sentimentalmente e questo è basilare se vogliamo stare bene se vogliamo essere in armonia con noi stessi in armonia con gli altri approfondirò questo discorso ripeto perché fosse interessato venerdì 4 novembre alla 2045 in corso a 3013 al dottor della provvedenza il mio riferimento è sempre al 333 1511 703 e però invito tutte le persone a riflettere su questo fatto essere felici è possibile anche in amore ma nella vita in generale ma bisogna diciamo avere delle possibilità di appagare di venire a patti di venire a conoscenza di interagire interagire con un'interdipendenza positiva con quella parte che è dentro di noi e che governa questi processi dell'innamoramento questi processi del coinvolgimento e anche che gestisce le nostre risorse anteriori questo è fondamentale saluto tutti e auguro una buona sera da tutti ciao